Chiarissimo. E tu, stando in Francia, hai scoperto delle parti di te che altrimenti non sarebbero emerse, delle parti di te nuove? Beh sì, sicuramente ho scoperto, diciamo che stando all'estero, allontanandosi da genitori eccetera, soprattutto dalla famiglia più vicina diciamo, si riesce a staccarsi un po' da quelli che sono dei condizionamenti che secondo me ci sono per tutti, l'opinione di quelli che sono intorno a te, che ti sono molto vicini, che ci tengono a farti sapere come la pensano su tutto e che in un modo o nell'altro ti condizionano. Con stati gratuiti non richiesti. Eh sì, 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 che comunque tutti e tutti diamo probabilmente, quindi staccandomi da questo è chiaro che sono riuscita molto di più a guardarmi dentro, a capire delle cose di me, ma anche nella solitudine che a volte si prova stando lontani, io mi sono accorta ad esempio che finalmente a un certo punto ho accettato il fatto che sono una persona abbastanza introversa, non mi piace andare a mille feste, non mi piace essere sempre circondata da stimoli di persone che mi parlano e a un certo punto ho fatto pace con questo aspetto, mentre prima mi spingevo sempre un po' ad andare oltre i miei limiti, ma in maniera un po' superficiale, solo perché si doveva fare così. Magari è una maturazione che avrei avuto anche altrove, anche rimanendo magari in Italia, però sì, allontanandomi sono riuscita a guardarmi dentro molto di più, a buttarmi anche nelle situazioni senza farmi mille problemi. Sì, perché c'è il vantaggio grosso che poi, capito, quando sei in un posto specialmente che chi arriva da fuori non conosce tanta gente, quindi c'è meno giudizio, no? Da parte di fuori c'è tanto non mi conosce nessuno, qua se faccio casino, ma al massimo me ne vado. Quindi c'è questa libertà specialmente ai primi tempi, benissimo, bene, bene. E poi vantaggi, altri vantaggi, non so che possono essere le tue educazioni dei figli, welfare, ritmo di vita, lavoro, vedi? Allora, beh sì, 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 ce ne sono parecchi. Nella parte dei figli sicuramente il fatto che ci sono diversi aiuti, ci sono diverse strutture per accogliere, diciamo che dal punto di vista dei nidi, delle scuole, dei centri dove possono passare il tempo anche durante le vacanze, eccetera, la cosa è organizzatissima e ci sono proprio anche sostegni finanziari da parte dello Stato, non solo se hai un reddito basso o molto basso, ma anche se hai un reddito medio-alto. Se non ricevi proprio aiuti comunque puoi fare delle detrazioni fiscali in base ad esempio al fatto che hai pagato una babysitter, ovviamente in regola, quindi questo a differenza di quanto succede in altri paesi come ad esempio l'Italia, contribuisce a rendere il sistema molto strutturato e alla fine anche affidabile, quindi questa è una cosa che piace. Ritmo di vita, sì, quello che ti dicevo prima, sicuramente una Lione confrontata a una Milano è più rilassata e questo è importante. Vivibile, insomma, si gusta di più la vita, assolutamente. C'è l'importanza di gustare la vita che abbiamo anche in Italia, cioè questo amore per la gastronomia, per il cibo, per il vino, per la pasticceria, eccetera, come c'è in Italia, c'è anche in Francia e questo è una cosa ottima, cioè questo fa sentire comunque più a casa. Eh sì, sono quelle gioie che quando cominciano a mancare in maniera forte possono far sentire, invece, ok, grande cosa. Sì, 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 c'è questa convivialità. Per me la società multiculturale, so che ci possono essere opinioni diverse, ma per me è un aspetto positivo, perché penso che sia una cosa che arricchisce e quindi la Francia è molto multiculturale e forse tra gli altri vantaggi ci metterei anche una libertà generale, intesa come la Francia, la liberté, égalité, fraternité. Perché loro ne vanno veramente fieri. È uno Stato, ad esempio, che è orgogliosamente laico e che quindi, secondo me, per un italiano che arriva qui o italiana non ha tutti questi bigottismi, questa cosa di essere bacchettoni magari di origine cattolica, questo moralismo, questo giudicare su determinate tematiche, ma è molto più per la libertà delle scelte di ognuno. Quindi questo per me è un vantaggio, cioè una società generalmente più improntata alla libertà di ognuno, quindi non troppo bacchettona, ecco. Quindi ci sono meno distruttori di sogni, probabilmente, lì, giusto? Sì, perché forse è un po' meno rigida. Un po' meno rigida. Sì, sì, sì. Sì, ecco, in Italia a me la cosa che non andava giù era la seriosità di tante cose, no? Perché qua, se ti devono spiegare una cosa, gli irlandesi te la spiegano in maniera più veloce, non te la fanno pesare, fatto, finito, e il risultato è lo stesso. Mentre invece là ci mettono il carico di questa dose di seriosità, mi raccomando, e dice, vabbè, mi hai preso proprio per un rimbambito. Sì, anche il modo di scrivere italiano, questo però in Francia è simile, cioè quando si scrivevano le mail in Italia, io mi ricordo che erano dei papiri le mail in Italia, tipo cordiali, salvu, cioè nell'attesa di una cosa... Voi con la V maiuscola concedervi... La V maiuscola concedervi, tipo ragionier fanto... Ma proprio anche questi dottori, cioè c'era sempre questo rivolgersi a sta gente, avvocato, dottore, cavalier, boh, non lo so, era complicata questa cosa, però in Francia c'è un pochino lo stesso modo di scrivere, a volte un po' articolato. Vabbè, non è così grave, ma sicuramente il mondo anglofono è molto più diretto e... Parliamo un attimino di questo argomento di istruttori di sogni, no? Tu hai fatto questo video che hai pubblicato oggi di questi personaggi, che sono un po' ovunque, spesso tra familiari, insomma, raccontaci un pochino, tu c'è questa nonna particolare che... Sì, 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 la persona che ti distrugge, non ho neanche detto sogni ma entusiasmo, perché in realtà un sogno è un qualcosa di forse ambizioso, ma un entusiasmo potrebbe essere anche una felicità momentanea per una piccola cosa che tu vorresti fare, per un mini progetto. Io sì, ho parlato di questa nonna che sempre mi ha smontato l'entusiasmo, fin da piccola, perché io dicevo, ah nonna, che ne so, andiamo in gita scolastica, e lei mi rispondeva, sì, in gita ci andrai sempre che non sei malata, sempre che non ti ammali. E tu dici, ma porti sfiga, e tra l'altro era una bambina che si ammalava spesso io, quindi già ci pensavo di mio... Ma forse perché era la nonna che te le tirava. Ma infatti, me le tirava, era un circo... Cioè io già ci pensavo di mio... E metti che non possa... E lei rincarava la dose. E effettivamente poi ognuno, io penso che tutti, magari un po' lo facciamo, no? Con qualcuno, ci capita a tutti di essere distruttori di suoni degli altri, dell'entusiasmo degli altri. Però sì, nel video dicevo del fatto che è importante riconoscere questi elementi e cercare di... Stare nella larga. Sì, 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 di differenziarli da qualcuno che fa una critica positiva, una spiegazione, diciamo, anche magari non piacevole, ma un po' articolata. Rispetto a un semplice... Ah no, non si può. Ah, che cosa dici? E che ti smonta, insomma, completamente il tuo entusiasmo. Sì, sì. E nella vita all'estero, secondo me, visto che è un progetto di cambiamento di vita, quando se ne parla, proprio questi qua che hanno voglia di tirare fuori questo tipo di frasi e di commenti, sono felicissimi di poterlo fare. Perché le incognite comunque ci sono, no? Anche perché si crea una dinamica psicologica particolare, nel senso che quando uno è esterna di voler andare all'estero, l'altra persona che non ci va quasi riflette su se stesso, dice, ma sono io più fesso che non ci vado e quello più dritto che ci va. Quindi viene automatico questo confronto. E quindi chi si sente magari sulla difensiva, magari comincia ad attaccare. Dice, ma no, ma tu vedrai che poi ti andrà tutto storto, verrai qua a piangere. Quindi questa è una cosa classica. Bene. Allora, poi a me piace sempre chiedere riguardo le paure, no? Questo è un viaggio che ci apre a conoscerci di più e inevitabilmente, insomma, si matura tantissimo vincendo tante paure. Quindi come è andata nel tuo caso? Quali sono quelle che hai lasciato dietro? Beh, sicuramente una prima paura è quella legata al fatto di non essere all'altezza dell'esperienza all'estero, perché spesso, soprattutto forse anni fa, ma sicuramente anche adesso, si parla in termini di fuga di cervelli, in termini di eccellenze, in termini di persone con esempi di vita veramente eccezionali, diciamo. Il medico che ha scoperto la cura per il vaccino, per il covid, ad esempio, che vale... Per loro, paradossalmente, il viaggio all'estero è più facile, perché è tutto un tappeto rosso, è tutto già pagato, organizzato, vieni, vieni, cioè, quando una Laura Pausini va all'estero, e a lei... Certo, certo, però sì, una Laura Pausini, esatto, sì, un po' così. Insomma, questa idea della fuga dei cervelli che fosse riservata veramente a persone con meriti eccezionali. Quindi io mi dicevo, ma... Ed è anche questo che a me interessa trattare, magari, nel mio canale e nel mio blog. Come facciamo da persone normali a andare, ad esempio, a vivere in Francia? Cioè, da persone, diciamo, medie, con pregi, difetti, passioni, un lavoro, una laurea o meno, però, diciamo, senza essere eccezionali. E io avevo questa paura di dire, beh, visto che non sono eccezionale, magari non riuscirò proprio a cavarmela. Questa è una prima paura. La paura, anche, che fosse troppo tardi. Questa ogni volta me la sono detta. Cioè, persino per l'Erasmus, avevo 23 anni, dicevo, eh sì, però gli altri... Cioè, perché ero a fine, diciamo, ciclo di studi, forse. E quindi mi facevo, tu, ah sì, gli altri vanno prima. Poi ci sono paesi dove si inizia l'università prima e alla fine l'esperienza in sé non ha niente a che vedere con qualche anno in più o in meno di età. Quindi questo troppo tardi è un po'... Che poi pare entesi, no? Dopo quando si comincia a lavorare, no? Lavorando si bruciano tanti di quegli anni che sono uno la fotocopia dell'altro. Io parlo per me. Voglio dire, tutta questa fretta di bruciare le tappe prima, poi si... Insomma, se posso dirla dai come l'ho vista io, non ha tanto senso. Perché poi sei obbligato a stare, a fare un ruolo, altrimenti ti chiamano come uno che brucia il curriculum. Quindi questa cosa di così, a vederla adesso, che ho 40 anni, insomma, mi fa... Non può farsi l'esperienza perché ho troppo vecchia, 23 anni, mamma mia. No, 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 assolutamente è una cavolata. Però ho proprio visto che nelle persone che commentano i miei video, o alcune anche che mi hanno scritto, questa paura viene fuori. Cioè, c'è anche... C'è proprio una ragazza che mi ha scritto, guarda, io ho 27 anni, vorrebbe cercare lavoro, diciamo, in un futuro prossimo. Ma ormai sono vecchia. Eh sì, mi domando se non sono, cioè, insomma, fuori tempo massimo. In realtà, insomma, non è più così. Cioè, soprattutto la gente cambia anche lavoro, settore, insomma. Menomale. Si può fare. Però era una grossa paura che avevo e che... Secondo me è proprio una scusa. Diciamo che volendo analizzarla, Sai, prima c'era, ne so, le generazioni prima prendevano un lavoro e se lo tenevano fino alla pensione. Quindi se non erano entrati in quell'età lì, magari non potevano più entrare. Adesso, che sia un bene, che sia un male, non c'è più il posto fisso come era prima e quindi l'opportunità si muove anche ad altre età. Bene, bene. Esattamente, sì, sì. Quindi, poi, parlando invece di schemi mentali di abbattere, da abbattere, che per fare questo viaggio che cosa è necessario fare per cavarsi? Eh, beh, sì. Gli schemi mentali sono forse le cose di cui ti ho parlato anche prima. Cioè, il dipendere dalle opinioni degli altri, di persone che abbiamo intorno. Questo è uno schema, secondo me, da dimenticare. Lo schema, sì, anche di un certo, magari, razzismo, di sentirsi migliori rispetto ad altri popoli, da dimenticare per due ragioni. Perché, ad esempio, se vai in Francia, ok, sei tu lo straniero. E poi, è veramente una società molto multiculturale, dove vedrai persone con diverse origini. Quindi, sarai straniero tra stranieri, o tra francesi, perché non lo sai se sono francesi o no. E poi c'è da dire che quelli che sono di altre origini, stanno lì da generazioni. Esatto, sono francesi. Quindi, occupano, ma è sicuramente, un livello più alto di me che appena sono arrivato. Esattamente, quindi, sì, è uno schema che io non avevo, però che è assolutamente da mettere da parte. E schemi, ovviamente, tutti gli schemi di giudizio. Quello che ti dicevo prima, un po' sul bigottismo all'italiana. Veramente, per una donna, io ho anche un figlio, la visione italiana della mamma, come quasi santa, insomma, che si sacrifica, che si annulla, e che anzi adora annullarsi, è ancora abbastanza presente. E questa cosa qua porta con sé molta colpevolizzazione per le donne in Italia, secondo me. Cosa che, ad esempio, in Francia è molto più lieve in questo momento. Quindi, diciamo che il dibattito su una parità di genere è molto più avanti. E quindi, anche questo tipo di schema, magari sacrificio, o donna che ha solo un determinato tipo di ruolo. Adesso, magari esagero, perché non dico che in Italia tutti ragionino così, però certi tipi di discorsi, ad oggi in Italia sono ancora accettati. Cioè, dire mio marito è bravissimo perché mi aiuta a lavare i piatti una volta a settimana, in Italia si può ancora dirlo e scatta l'applauso al marito. Se lo dici qui, insomma, stai dicendo una cosa un po' datata. Lo puoi dire, però... Sappi che ti arrivano i pomodori in faccia. Eh, arrivano al marito. Cioè, insomma, guarda questo. No, no, ma, cioè, è vero. Quindi, per me questa è una cosa positiva, però lo schema, insomma, del colpevolizzarsi, eccetera, siccome è molto meno presente qui in Francia, è stata forse una cosa da lasciare andare, ecco. Ho capito, bene, bene, bene. Quindi immagina che invece avessi passato tutti gli anni della tua vita a Milano, con questo sogno che non si sarebbe avverato. Come sarebbe andata? Guarda, non ho la sfera di cristallo. Penso che, a meno che... Allora, se avessi fatto un grosso lavoro su me stessa, di prendere delle decisioni comunque logiche, dicendo, ok, posso comunque cambiare lavoro, posso magari cambiare città in Italia, non lo so, cioè, esistono opzioni così. Certo. Opposto, sì, rimanere a Milano e trovare un altro modo di vita. Se non avessi fatto un lavoro del genere, sicuramente sarei invecchiata al posto che di dieci anni, anzi, sono sei anni, al posto che di sei anni, magari di venti. Ok. E sarei rimasta abbastanza... Siamo con una società estremamente pressante sulla psicologia, quindi molto... Sì, 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 era pressante. Poi veramente non abbiamo la sfera di cristallo, cioè magari poi le cose sarebbero andate diversamente. però, insomma... Io tra le righe sento una grossa liberazione personale, una grossa possibilità di essere se stessi, no? Facendo il percorso che hai fatto tu, quindi lì non sarebbe... E poi c'è da dire che anche le ore di lavoro di Milano, forse l'hai detto prima, sono di più, e quindi... Sì, sì, sì. Quindi quel tempo libero per essere se stessi è un po' meno, no? Quindi, assolutamente. Esatto. E invece io mi ricordo, questa frase la disse un maestro di yoga e mi rimasse in mente e dice... C'è chi cambia un'azione, no? Per pensare di risolvere tutto e poi alla fine si ritrova che certe cose non cambiano, no? Quindi l'hai... Non so, l'hai sentita sulla tua pelle. Che cosa invece... Quindi non cambia quando cambiamo un'azione. Beh, la burocrazia. Direi che quella c'è una... Ovunque uno si trovi, poi magari ci sono paesi particolarmente snelli da questo punto di vista. Alla fine tutta la parte amministrativa è noiosissima. È un mix di cose da fare che non finiscono mai. Quindi questa non ce la si può scrollare di dosso se si va a vivere in Francia. No, 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 è impossibile. E poi quello che non ti scrolli di dosso sei tu stesso. Sei tu stesso. Sì, che all'inizio sembra di essere... Ah, poi dopo ritornano, no? Queste caratteristiche personali. Quindi io mi ricordo sempre il mio sogno dicendo, ah, mi sono tolto di mezzo quella persona che proprio mi stava qui e poi sottomutate spoglie che compare comunque. Una reincarnazione, diciamo. E dice, ah, questo mi perseguito e quindi finché non cambiamo noi certe cose certe persone attorno a noi non possono cambiare. Bene, bene, bene. Allora, se invece dovessimo parlare a questo punto dei consigli finali di tutto questo percorso per invogliare, per consigliare chi deve fare, chi vuole percorrere una strada simile alla tua. Allora, consigli finali direi soprattutto se si vuole andare in Francia non farsi fermare dall'idea delle difficoltà burocratiche quindi essere tenaci da questo punto di vista non farsi bloccare dall'idea che ci siano alcune cose impossibili perché non lo sono quindi ci vuole semplicemente pazienza. Il secondo consiglio sulla Francia è appunto di non sottovalutare il francese cioè di non pensare che sia facile cavarsela senza. Ovviamente si può conosco anche persone che vivono qui parlando inglese e non riuscendo neanche a comprare la baguette in francese però secondo me non è un paese... Quando possono durare questi così? Ma ce ne sono anche che restano... Sì, sì, è una cosa di pochi anni è il modo expat europeo che parla inglese quindi vabbè, se la cava però... Se la cava però i suoi amici sono sempre del gruppo expat quindi non riesce a entrare dentro. Sì, 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 assolutamente. E poi cercano l'English speaking plumber ogni tanto che non c'è a Lione questo avviso se volete cercare l'idraulico a Lione che parla anche inglese per il momento è una figura mitologica ti giuro, cioè non c'è. Quindi questo per dire il francese è importante non è da dimenticare e niente questi sono i due consigli principali andare avanti passo passo cioè chiaro che le... non lo so la decisione di andare a vivere all'estero e poi mettere in atto questo progetto non si fa in un giorno quindi chiaro accettare che ci vuole un certo tempo per ottenere delle cose qualunque paese si vada, penso. Bene, bene, bene. Poi naturalmente tu queste cose le spieghi benissimo con i tuoi video ben strutturati e organizzati in cui vedo che snoccioli bene ogni singola questione sei anche l'autrice di un ebook che spiega bene insomma Sì, sì, allora io è proprio da lì che ho iniziato cioè mi avevo scritto tutta una lista di cose da sapere per andare a vivere in Francia che ne ho comunque identificate ben 52 però non è solo per attirare a scaricare l'ebook del quale ho messo il link sotto a tutti i miei video quindi è molto semplice Voi lo troverete qui sotto insomma Sì, ed è gratis e guardatevelo ed è una diciamo una checklist così in modo da sapere appunto su burocrazia ricerca a casa lingua francese ricerca lavoro quali sono i punti fondamentali da avere in testa e da non insomma da non dimenticare ho fatto ho fatto questa cosa ho cominciato da questa cosa durante il primo lockdown in primavera e poi ho fatto il blog e poi mi sono messa a fare video con tutto questo tempo a disposizione alla fine Poi ci sono le lezioni di francese mi sembra di vedere sì qualche lezione di francese qualche lezione di italiano francesi anche a diciamo a signore soprattutto anziane che durante il lockdown sono annoiate quindi richiedono lezioni di lingua italiana quindi questo fa sempre ben sperare diciamo se uno vuole imparare l'italiano non è che è visto proprio male male no l'italiano è apprezzato diciamo culturalmente sì 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 è apprezzato dai francesi è sempre un sollievo diciamo che almeno non mi vedono come pezzo da pieni no 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 assolutamente è apprezzato culturalmente per il cibo ma anche per la stessa lingua poi pensano tutti che sappiamo cantare bene i francesi pensano che noi italiani cantiamo facciamoglielo credere va bene benissimo bene bene Sara io ti ringrazio allora di tutte queste perle di saggezza di tutta questa esperienza che ci hai portato questa sera e quindi ragazzi se avete domande ovviamente le scrivete qui sotto nei commenti e faremo in modo di rispondere o io Sara per bene e noi ci vediamo a uno dei prossimi video Sara grazie ancora di essere stata con noi questa sera alla prossima e a presto grazie a te ciao 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 ragazzi ciao ciao ciao